eccoci ancora insieme per questi brevi ma spero belli belli incontri tra di voi con paola lille tutto il loro gruppo con radio web in volo per anche questo sabato parlare di dialetto e delle tradizioni allora io sono sempre checco lo sapete ormai bene allora iniziamo intanto a dire che questa è la rubrica namo liga poesia ideata insieme agli amici paolo e lilli come vi dicevo e che portiamo avanti anche speriamo fino a natale e poi dopo si vedrà bene allora chi ci segue sa che la volta precedente avevo lanciato questo modo di dire che viene dalla campagna che viene dalla vita di ogni giorno per quello che anche se è stato cognato ho detto per la prima volta cent'anni fa ottant'anni fa a ugualmente sempre la propria validità insegnamento perché nasce dalla vita dicevamo l'altra volta a un voi tentacqua te voi una volta più che adesso è quando c'era un po la povertà però almeno nella campagna ogni contadino faceva il vino nella propria cantina e quindi comunque il vino non mancava mai magari era un po un vinello così non era perfetto come i vini di oggi però era buono e riscaldava un pochino l'ambiente e l'amicizia ora a un voi tentacqua te voi diceva sapete che anche i ragazzi lo capiscono più di tutti ancora noi che siamo adulti mettere l'acqua nel vino per chi ama il vino è proprio quasi un peccato insomma no quindi l'acqua nel vino toglie il sapore toglie l'essenza del vino non nel vino buono e quindi quando dicevano a qualcuno no magari parlando di un contratto oppure c'era un ragazzo che doveva dare una spiegazione perché aveva commesso aveva combinato qualche guaio quando il babbo magari a casa arrivava il ragazzo il babbo lo prendeva da strette come si dice adesso come si diceva una volta non lo prendeva vicino e il figlio doveva comunque rispondere e il babbo il figlio cercava di rispondere così con qualche scusa brontolava non diceva tutto eccetera e il babbo capiva che c'era qualcosa sotto che lui non voleva dire e diceva o guarda a un voi tentacqua te voi gli voleva dire a questo ragazzo dimmi esattamente come stanno le cose perché se tu non mi dici la verità in questo caso paragonata al vino buono dire tutte quelle mezze bugie è come buttare acqua nel vino cioè rovinare il vino buono e in questo caso si rovinava la verità e non veniva a galla la verità quindi quando un ragazzo quando una persona che trattava magari un affare si diceva a un voi tentacqua te voi e si voleva dire ragazzo dico come stanno le cose anche se magari fanno male però voglio la verità quindi non mettere acqua nel vino che si rovina a un voi tentacqua te voi bene oggi ho pensato di declamarvi una poesia abbastanza scherzosa anche se è vera insomma in generale sapete che con il dialetto si può anche scherzare su cose abbastanza vere a volte anche serie questa non è molto seria però è vera allora oggi volevo declamarvi una poesia dal titolo caffè signori e vi dico solo la traduzione che poi è uguale caffè signori bene la cioina era stata buona e abbondenta la gioia la sfidiva chiuse la gente ma ecco avvicinasse su un pass legger con un pio di sorridente e camerier che dice quasi accenando un mezzinquin allora aggrediresti un caffettino? ed ecco tu un momento al ristorante e c'è il gel su un'area da che mi sento io ho un decaffeinato un po' ristretto e io ho un caffè normale per accuretto ora metto un po' tu un orto in tazaznina che non dormi se bella la caffeina io ho un decalto io ho un caffè macchiato io quasi quasi non fai spurtare un gelato e camerier suda le distrutte riassumendo e us va ripetar tutto possibile che a stemmant fatta cannell nessuno ne voglia più un caffè normale? poi us non va via scrollando un po' la testa e pensa meno male meno la festa quando us presenta in scella l'era gente us vidi che il colabore lui è contento io ho un seguito io ervenso anche stupido pensé che levo un'area da invurne e lui trascese o ridi cosa mazza io tutto compagno laschina cambiare la tazza bene a volte può succedere non sempre comunque caffè signori allora spero vi sia comunque un po' piaciuta e il nuovo modo di dire che vi lancio questa settimana questo weekend è un modo di dire antico ma molto semplice tutti lo potranno benissimo comprendere soprattutto quelli un po' grandi che hanno un po' la mia età e più perché capitava spesso in queste case di campagna ma anche dei piccoli borghi e si diceva però ecco io devo dirvi solo il modo di dire perché se vi faccio anche la spiegazione è troppo facile no? e fa due passi su un mattone fa due passi su un mattone tutti l'avrete compreso naturalmente però se vorrete intervenire dare una spiegazione fare un saluto a Paolo e Lilli loro hanno piacere perché sono lì in sovrimpressione col numero che vi aspettano e nel frattempo io vi auguro una buona fine settimana e vi aspetto tutti alla prossima puntata e fa due passi su un mattone a saluto a tutti che ecco da San Marino o da Lesignano insomma come dico spesso ciao